presentato nella mattinata del 29 giugno presso il palazzo di città di taranto il campionato nazionale italiano di acquatlon la prova denominata acquatlon dei due mari si svolgerà il 2 e 3 luglio tra il borgo e il canale navigabile tarantino centinaia gli atleti già iscritti per questa specialità che rientra all'interno della federazione italiana di triathlon presenti alla conferenza stampa l'ammiraglio salvatore vitiello il mio assessore allo sport del comune di taranto gianni azzaro il consigliere regionale del pd vincenzo di gregorio il delegato provinciale del coni michelangelo giusti e il presidente della sd triathlon taranto michele giannese oggi questa importante iniziativa che su scala nazionale perché si tratta come ho detto di una gara nazionale naturalmente l'amministrazione anche in vista dei giochi del mediterraneo punta molto alla valorizzazione di tutti gli sport ma soprattutto degli sport di mare dove puntiamo diciamo in corso di questi anni a fare una vera programmazione sia all'interno delle scuole per promuovere questo tipo di sport ma soprattutto essere da supporto alle tante associazioni che si occupano di questa attività e quindi un plauso alla società all'associazione triathlon taranto per aver portato questo evento nazionale sulla città di taranto che in linea con tutto diciamo quello che stiamo facendo che va nell'ambito del turismo proprio sportivo perché anche in questo caso questa iniziativa non è altro che un turismo sportivo perché comunque diamo la possibilità a tanti atleti con le loro famiglie accompagnatori che vengono diciamo qui per gareggiare ma hanno l'occasione per scoprire una città meravigliosa dal punto di vista storico architettonico e culturale la regione non poteva non essere vicino a questo grande evento è un evento sportivo importantissimo che vede la presenza di quasi 400 atleti a senior ed under e soprattutto un grande evento di promozione della città e ovviamente ringrazio la st triathlon taranto una persona del dottor giannese e anche il presidente giubilei della fitri della federazione italiana triathlon che hanno voluto fortemente questo evento qui in città taranto quindi speriamo che sia un buon viatico per le tappe di avvicinamento dei giochi del mediterraneo della marina militare il canale navigabile questo scenario veramente spettacolare è uno degli scenari più belli proprio della città di taranto saranno a disposizione di questa manifestazione che non può che non vedere la marina militare coinvolta perché si tratta di acqua si tratta di mare si tratta di sport di nuoto quindi con il presidente e con Luigi Giannotte che è il mio stalker quindi da mesi che mi sta dietro per questa attività abbiamo fatto delle videoconferenze con gli organizzatori importanti quindi diciamo qualcosa che abbiamo preparato per tempo e sicuramente le condimente saranno favorevole anche questo caldo insomma faciliterà forse i nuotatori per tutta l'attività che dovranno svolgere nel canale e quindi ci auguriamo che sia una bella manifestazione ma questa manifestazione che apra proprio le attività di mare che noi vogliamo fare nella città di taranto quindi speriamo di poter riprendere con il trofeo del mare della città di taranto con tutte quelle attività che abbiamo consolidato negli anni e che ahimè questi due anni di covid ci hanno portato ad interromperla quindi io spero che questa attività dell'Aquatron sia proprio una formula di ripresa e di rinascita della nostra normalità in questa nostra splendida città di mare. Fotografa bene anche lo spirito di questa manifestazione devo dire fortemente voluta da Michele Giannese che è il presidente del triathlon di Taranto e ovviamente c'è stata l'attenzione sia del regionale e poi del nazionale non è facile portare a Taranto voglio dire iniziative però siamo tutti impegnati come coni ma soprattutto come federazioni a iniziare un percorso in attesa dei giochi del Mediterraneo del 26 e cercare di portare a Taranto il maggior numero possibili di eventi importanti di livello nazionale e noi speriamo anche internazionale quando gli impianti saranno completati come praticamente la manifestazione di domenica. Siamo arrivati oramai a pochi giorni a poche ore da questo evento che è un evento estremamente importante per la città di Taranto per la promozione del territorio e se abbiamo avuto l'assegnazione di questo evento è proprio perché il progetto presentato dalla AS di Triathlon Taranto ha saputo coniugare lo sport e il triathlon in particolare con la promozione del territorio, le bellezze del territorio e quindi la federazione nell'ambito di una schiera di città che si sono candidate non ha avuto dubbi e quindi abbiamo questo bel fardello che ormai comunque è giunto alla conclusione dell'organizzazione, mancano ancora un po' di dettagli ma ce la faremo. Il 3 luglio ma già con un'anticipazione il 2 luglio avremo qui 360 circa 400 atleti complessivamente tra under 16 e senior che faranno le loro belle prestazioni sportive tra la frazione natatoria e quella di corsa sul lungomare della città di Taranto e poi la frazione di nuoto soprattutto sotto il ponte girevole. Per il resto c'è stata la collaborazione fondamentale e importante della Marina Militare che c'è stata accanto in un momento storico nel quale Taranto purtroppo non aveva la propria giunta comunale, il sindaco perché commissariati, adesso per fortuna siamo riusciti ad avere anche accanto il Comune nelle sue figure classiche ma devo riconoscere che in tutti questi ultimi sei mesi di organizzazione ogni singolo dipendente, funzionario e dirigente del Comune c'è stato assolutamente accanto e non ha fatto sentire assolutamente la propria mancanza. Grazie a tante associazioni, ad alcuni partner che saranno menzionati nel corso delle premiazioni, nel corso dell'organizzazione dell'evento, dello svolgimento tra sabato pomeriggio e domenica, fulcro il Castello Aragonese. Questo è stato proprio alla base della nostra idea, quello di promuovere, abbinare lo sviluppo e la promozione del territorio collegandolo a un grande evento sportivo che potesse richiamare su Taranto i migliori atleti di tutte le regioni italiane. Lo scenario che noi presenteremo agli atleti è più unico che raro, perché comunque fulcro sarà il Castello Aragonese di Taranto, dove si sarà il centro proprio logistico di tutte le operazioni, compresa anche le premiazioni finali. Mentre per quanto riguarda i percorsi di gara, gli atleti attraverseranno il suggestivo passaggio del Ponte Girevole e si snoderà poi il percorso podistico lungo il lungomare di Taranto, con un percorso a bastone fino a Piazza Evalia. Invece la frazione di nuoto si svolgerà, le operazioni preliminari della frazione di nuoto si svolgeranno sulla banchina del Castello Aragonese, mentre la vera e propria frazione di nuoto della lunghezza di un chilometro si svolgerà nelle acque del canale navigabile. Quindi, ricapitolando, abbiamo uno scenario incredibile, più unico che raro per tutti gli atleti, il grande supporto della Marina Militare e poi abbiamo tutta una serie di associazioni locali legate soprattutto allo sviluppo del territorio e del mare, che ci daranno un notevole di supporto per tutta l'assistenza sia a terra ma anche nelle frazioni di nuoto. Noi abbiamo superato i 300 iscritti, che veramente come ripresa post-Covid è un grandissimo successo. Poi inoltre la gara della domenica, che si svolgerà in due frazioni, per meglio dire, prima si svolgerà la gara femminile, al termine della quale inizierà la gara maschile, per questo abbiamo ricevuto anche dal CONI il cosiddetto bollino rosa. Verrà preceduta il sabato pomeriggio da una serie di attività promozionali riservate alle categorie giovanili dai 6 ai 15 anni, che si svolgeranno all'interno della banchina torpedinieri, sempre della Marina Militare. Un momento significativo della nostra città. Quando un mesi fa gli amici del Triathlon ci hanno parlato di questa iniziativa, oggi siamo all'interno del Salone degli Specchi, quindi abbiamo una giunta comunale, nei mesi scorsi no, e quindi c'era anche un po' la voglia di dare una mano ad un'associazione che con grande coraggio e grande determinazione aveva finalmente portato un campionato italiano nel nostro territorio. Noi di Taranto 25, senza esitare, abbiamo subito dato la nostra disponibilità, che si è aggiunta a quelle di anche partner istituzionali che hanno aiutato questo evento, la Marina Militare, la Regione Puglia, e però come territorio non potevamo essere non pronti e non presenti. Quindi per noi è un motivo di grande orgoglio, hanno veramente fatto gli amici del Triathlon dei sacrifici enormi a livello organizzativo, a livello di immaginare una cosa che a Taranto non c'era mai stata. Per noi è un momento di gioia. Sabato e domenica veramente invitiamo tutta la città a dare un contributo di presenza, perché Taranto deve sempre reagire con grande entusiasmo quando conquista il proscenio nazionale per cose che ci rendono orgogliosi. E poi sarà bellissimo vedere la nostra città rappresentata anche dalle televisioni, vedere questa partenza dal castello, il momento della discesa vasto, insomma è veramente una fotografia della nostra città che deve arrivare in tutta Italia, come sta succedendo con le navi da crociera e come sta succedendo con tanti eventi. Quindi vive il Triathlon, vive il campionato di Aquatron e Taranto 25 è presente con grande entusiasmo come sempre.